buongiorno benvenuti a tutti a questo nuovo appuntamento del venerdì velocemente facciamo un piccolo escursus sulle temperature degli ultimi sette giorni registrate dalla nostra stazione meteo vedete che praticamente da domenica le esclusioni di termiche tra la mattina e il giorno sono state davvero minime la temperatura si è attestata intorno ai 12 e 14 gradi proprio perché c'è stata la copertura nuvolosa dettata dalla maccaia e poi da ieri sera vedete qua la temperatura si è praticamente fissa intorno ai 14 gradi proprio perché sta già soffiando il libeccio e lo si può notare anche nell'aumento della velocità del vento della raffica e dalla direzione che come vedete in questo momento se proprio se è stata a sud ovest andiamo a vedere i modelli globali vediamo il primo gfs vedete come la perturbazione sta facendo ingresso nel mediterraneo occidentale il nostro in questo momento è fissato più o meno sui pirenei vedete che al suolo si stanno disponendo le correnti sud occidentali quindi di beccio e vedete infatti che alla riviera di in da prima di ponente poi man mano che il nocciolo avanzerà verso est poi la riviera anche di levante ci saranno delle grandi grosse precipitazioni il vento è abbastanza intenso mare molto mosso localmente agitato tutto in realtà come avevamo visto la settimana scorsa andiamo avanti con le prossime con le prossime immagini vedete come il nocciolo si sposta verso est passando esattamente praticamente sopra il mar ligure si mantiene la corrente ovviamente sud occidentale poi col passaggio del nocciolo vedete che sulla nostra regione specialmente sul nord ovest sul cuneese sul basso conese si arrivano correnti diciamo più orientali quindi la temperatura col passaggio qua siamo già la notte tra domenica e lunedì le temperature diminuiranno un pochino e poi vedete che il nocciolo si allontana ma di nuovo ma di nuovo l'anticiclone tende a risalire a verso nord è una risalita sicuramente momentanea dettata appunto dal passaggio precedente della pubblicazione precedente che ormai si trova qua sul sul mar nero e sulle estreme regioni orientali del mediterraneo vedete che si invortica sempre di più addirittura 965 pascal al suolo una profonda depressione qua sull'uscita del canada sul nord atlantico siamo già venerdì prossimo ma vedete che però per quanto riguarda la nostra regione è il tutto il nostro regione ovviamente mediterranea rimane tutto abbastanza protetto dall'anticiclone se non appunto nel fine prossimo settimana o forse una leggera irruzione più fredda da est che ci farà sembrare forse leggermente più in inverno però vedete che l'anticiclone in questa zona e purtroppo è sempre è sempre presente anzi tende a rialzarsi perché si forma di nuovo questa lacuna barica qua ad ovest dell'anticiclone e poi aiutata anche da questa goccia fredda che si stacca appunto abbiamo visto dal vortice polare e tende a far risalire anche un po l'anticiclone come se non bastasse quello che abbiamo già avuto ma purtroppo la situazione è questa questo questo secondo gfs vediamo invece secondo quello europeo che vi dico già un po un po meglio forse perché vedete che conferma le correnti dal sud ovest e che in rotazione addirittura scirocco poi sotto costa nella giornata di oggi e di domani vedete che domani il noce lo passa proprio sopra il mar sopra il mar ligure e poi con lo suo spostamento verso ovest è una leggera viene poi risocchiato da la depressione madre che qui tra l'inghilterra e l'islanda si stavolano un po di venti po da piuttosto abbastanza orientali e quindi ci sarà un leggero una leggera diminuzione delle temperature e qua siamo ormai la notte tra domenica e lunedì quindi e poi avremo un miglioramento del tempo come abbiamo visto con l'altro modello anche con questo si vede un aumento un'ondurazione tra l'altro proprio del getto polare vedete che in questo momento sale molto di sale molto di latitudine ritorna diciamo sopra lingue sopra il regno unito lasciando libera di nuovo la porta atlantica che viene chiusa e in parte vedete che c'è questa risalita dell'anticiclone che è di nuovo invadente noi siamo sul bordo orientale quindi in quota le correnti si disporanno da nord ovest al suolo invece vedete che praticamente l'isobare praticamente non ce ne sono quindi ci sono praticamente calma di vento vedete che poi appunto a metà settimana intorno al 15 di febbraio l'anticiclone tende a invadere ancora di più si anche questo modello vede l'approfondirsi questa perturbazione ad est della del canada sul nord atlantico e vedete che però fa fatica ad avanzare vedete che rimane pressoché instabile profonda e molto grande quindi c'è un richiamo anche caldo dal dal medio al medio alto atlantico ma vedete che la nostra la nostra penisola rimane comunque in parte parzialmente coperta dall'anticiclone che tende a risalire proprio di di latitudine vedete proprio che il verde tende a andare verso nord rimane permane questa bassa pressione sul sulla manica ma poi vedete che appunto anche questo modello a fine settimana prossima vede comunque un un passaggio abbastanza rapido diciamo da nord verso sud sud est di questa saccatura atlantica anzi è un bordo bordo basso di una saggiatura atlantica legata al vortice polare che interesserà un po tutta l'italia porterà sicuramente una leggera diminuzione temperature ma niente di che anzi addirittura si forma una piccola goccia fredda sopra la penisola iberica e vedete come in atlantico questa enorme perturbazione anche qua 960 ecto pascal è un enorme mulinello che a nord e richiama aria fredda proveniente dal vortice polare da nord dal polo e aria molto più temperata e vedete che l'anticiclone di fatto viene richiamato proprio da questo da questo enorme da questa enorme perturbazione e noi siamo un po in una situazione di un po ibrida che di fatto mi sembra che i modelli sembra mi sembra che stiano un po facendo fatica ad inquadrare quindi vedete che di fatto ci sono queste due figure questa figura grossa appunto nel nord atlantico e una quadra tra tra l'inghilterra e la penisola scandinava questo centro in bassa pressione e in mezzo l'anticiclone che tende a salire anche aiutato vedete che da questa goccia fredda che da prima era nella penisola iberica tende a sprofondare addirittura nell'africa settentrionale e questo determina appunto un ulteriore richiamo di aria calda presente nell'anticiclone e quindi vedete che in questo momento fino siamo già ormai al 19 20 di febbraio evoluzioni fredde non ce ne sono e quindi direi che l'inverno se non ci sono sconvolgimenti nei prossimi nelle prossime diciamo uscite dei modelli nei prossimi giorni mi sembra che d'inverno al momento purtroppo ne vediamo poco vediamo le temperature previste a 1500 metri c'è 850 etto pascal di quanto il gfs vedete un richiamo caldo umido proprio in queste ore vedete che poi arriva un po di aria fredda questo determina quindi anche ma un abbassamento delle temperature dello zero termico quindi le nevicate che si potranno assistere intorno anche ai mille metri nella giornata tra domenica e lunedì quelle diciamo residue soprattutto nel cuneese dove lì avremo una maggiore possibilità di nevicate a quote leggermente più basse rispetto a oggi e domani e vedete che anche con il modello quello americano vedete risalita di aria calda lo zero praticamente sparisce anche vediamo quello vediamo quello europeo vedete che l'evoluzione fino ai prossimi due tre giorni è pressoché identica dal punto di vista delle temperature vedete che c'è sarà una leggera diminuzione momentanea nei primi giorni della settimana poi anche qui vediamo una risalita dell'anticiclone ma poi vedete che arriva questa freddo da da nord dal nord ovest quindi area diciamo nord atlantica fredda non gelida sicuramente e che poi scavalcherà le alpi dalla porta della bora e vedete che nella giornata di sabato prossimo le temperature tenderanno effettivamente un po a diminuire e quindi siamo al 19 ormai weekend è finito siamo quasi all'inizio dell'altra settimana ancora e dove le temperature sono previste quindi in leggera diminuzione guardiamo gli spaghetti su geneva l'ultima velocemente vedete che anche gfs vede praticamente fino al 19 temperature sempre sopra alla media se non di tantissima ma comunque di 4 intorno ai 34 gradi 5 gradi in base un po ai giorni e vedete che poi da intorno al 17 che questa diciamo questo punto qui gli spaghetti si aprono molto quindi significa che in qualche modo le diciamo le dinamiche dei 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 modelli faticano a inquadrare quello che sarà la vera evoluzione termica a questa al quota vediamo anche quello europeo vedete come ha confermato direi in maniera molto importante tutte le precipitazioni previste per questi giorni la temperatura come vedete molto abbottonata sempre comunque sopra la media che in questo momento del periodo intorno ai 0 gradi vedete tra 3 4 5 gradi poi addirittura vedete questo questo prossimo ulteriore rialzo termico intorno a metà febbraio il 15 di febbraio con alte precipitazioni quindi probabilmente avremo di nuovo altre precipitazioni vedete che però anche questo modello dopo il 18 19 come anche naturale aspettarsi si aprono molto diciamo le maglie quindi le immagini errore aumenta decisamente diciamo che la tendenza dopo il 16 il 17 febbraio è una graduale diminuzione delle temperature ma al momento non si vedono irruzioni particolarmente fredde e quindi la stagione sta avanzando e ovviamente avanzando si porta dietro anche maggiori temperature e quindi probabilità di vedere freddo nelle prossime nelle nei prossimi giorni sicuramente sarà sempre meno purtroppo mi sembra da dire che che quello che i modelli dicono oggi è che l'inverno per il momento per almeno fino le due decadi le prime due decadi di febbraio non si vede e questo purtroppo è un segno tutto sommato negativo poi va bene dopo questa perturbazione molte località scivistiche avranno un bel carico nevoso perché sicuramente pioverà tanto nevicherà tanto sopra i 1400 1500 metri con un po come ci siamo detti però poi di fatto il freddo non c'è e quindi non c'è e soprattutto rimane sempre molto attivo l'anticiclone che purtroppo è particolarmente invadente anche nelle prossime settimane bene signori grazie per l'attenzione e poi noi ci vediamo venerdì prossimo grazie a tutti